I sindacati CGL e Funzione Pubblica CGL hanno manifestato la loro preoccupazione per il ricorso all'affidamento esterno di alcune attività dell'Ufficio Tributi del Comune di Caltanissette e della Ragioneria del Comune di Vallelunga. La segretaria generale CGL Rosa Moncada e il segretario FP CGL Angelo Polizzi hanno sottolineato che, ricorrendo alle esternalizzazioni dei servizi, si aumenta il rischio di precarizzazione del lavoro, oltre a quelli relativi alla mancata riqualificazione del personale amministrativo degli enti pubblici e alle nuove assunzioni. Il personale in servizio all'Ufficio Tributi è rimasto uguale a prima, quindi non sono diminuite le unità lavorative. Devo dire una cosa, io ringrazio la CGL per la segnalazione, ma questo mi dà la possibilità di spiegare ai cittadini cosa stiamo facendo. In questo momento noi abbiamo bandito i famosi 38 posti, sono state espletate già tutte le prove per le varie qualifiche e in questo momento le commissioni stanno allineando i titoli con le prove, per cui a breve, io ritengo prima dell'inizio dell'estate, noi avremo le graduatorie pronte.